Ciao ragazzi, io sono TrainerTA e sul mio canale potete trovare news a tema anime, consigli anime e tantissimi altri topic. Sono veramente felice di far parte di questo progetto, un saluto a tutti, ciao ragazzi! Ciao ragazzi, 11 secondi per capire chi sono io? No, capiamo chi siete voi, amate la musica? Avete mai immaginato le sigle degli anime come potrebbero suonare in italiano? Cercate Matteo Leonetti, mi raccomando! Ciao a tutti, io sono Valery dal canale e dalla pagina Instagram ValeryTK e mi occupo di libri, letteratura, manga e fumetti. Ciao ragazzi, ciao Ronin, io sono Sig del canale Fear of Unknown e mi occupo di anime, principalmente. Vi porteremo commenti, notizie e teorie! E stenderemo i nostri video fino alle stelle! Ettore e Dario! I fandom pronti a partire alla velocità della luce! Arrendetevi subito! O preparatevi a commentare! Ciao a tutti, io sono Avogul, sul mio canale porto anime, manga e videogiochi, ma in più faccio anche streaming. Ciao ragazzi, sono Giorgio Battisti, in arte è Giorgio Manga e sul mio canale mi occupo di illustrazione, fumetto e tecnica manga. Nasaone a tutti, io sono MonkeyDHandria e questa è la mia postazione. Sul mio canale tratto video gameplay, video commenti ai capitoli di One Piece, curiosità su diversi personaggi, tra i quali quelli di One Piece e anche tanto altro. Ciao a tutti ragazzi, io sono TORTANIUM delle teste di Mango e ci potrete trovare su YouTube, Instagram, Discord e Telegram. Generalmente trattiamo arte, cosplay, manga e anime. Gioca a Destiny. Mamma mia ragazzi, benvenuti, io sono MobyDick, Ferdi per gli amici e sul mio canale tratto di One Piece e tutte le passioni della mia vita, con ovviamente una chiave di intrattenimento incredibile. Mi presento, sono Andrea Coccagna, sono uno YouTuber e come tale nella community di One Piece da 5 anni, faccio video e live a tema proprio del miglior manga di sempre che è One Piece. E allora, sono Roberto, Cavaliere di Platino, sono attivo principalmente su YouTube e su Instagram, il tratto principalmente di fumetto orientale o occidentale che sia. Ciao, sono Andrea, detto The Name Before Tokyo, detto ancora di più TNBT e mi occupo principalmente di OP. Ciao a tutti da MonkeyD, io sono il capitano di One Piece Massimo Esperti, al nostro canale YouTube trattiamo manga e anime, più precisamente One Piece, live domenicali, live con ospiti e video di approfondimenti e teorie. Ciao a tutti ragazzi, io sono Ronin e cos'altro dire, sono la mente diabolica dietro questo grande progetto. Ho chiamato a raccolta gli animetubers italiani con un solo scopo, intrattenere voi e far divertire, perché no, anche noi. Il tutto è molto semplice, man mano che ognuno di noi raggiungerà i 10.000 follower su Instagram, dovrà pubblicare una sorta di videoclip penitenza in cui eseguirà un'azione specifica, che noi ovviamente abbiamo già concordato, ma che voi, voi ancora non potete sapere. Lo scoprirete soltanto facendoci arrivare i 10.000. Quindi, se volete scoprire qualcosa di più, non vi basta che seguire le storie. Ovviamente, ovviamente, come state vedendo, se volete ricondividere l'evento utilizzando l'hashtag animetubersassemble, perché ovviamente è una citazione dell'Avengers, non poteva mancare in un contesto così epico come quello attuale, niente, noi ovviamente vi ricondivideremo. Detto ciò, io ringrazio tutti i partecipanti, tutti, tutti i gruppi a tema che hanno deciso di sponsorizzare l'evento e che sicuramente state vedendo in questo momento qui di fianco a me, e che ovviamente avremo taggato per l'occasione più volte. E niente ragazzi, buon divertimento, buon game a tutti e vediamo chi dovrà pubblicare per prima la penitenza. Ah, sì, ultima cosa, perché io inserisco sempre delle clip successive alla fine del tutto, per chi ancora non mi conoscesse. Arrivare a 10.000 è lo scopo, e scoprirete quella penitenza. Ma nel caso arrivassimo invece a 20.000? Arrivare a 10.000 è lo scopo, e scoprirete quella penitenza.